Buongiorno, oggi vediamo come far funzionare un cuocipasta della marca Inoxbeam predisposto a gas metano su richiesta del cliente. Come prima cosa ricordiamo sempre che l'installazione e il primo collaudo di questi macchinari devono essere fatti da parte di tecnici competenti e specializzati. Per quanto riguarda i cuocipasta ricordiamo che non vanno mai messi in funzione senza prima riempire l'acqua in vasca. Allora andiamo a aprire la valvola dell'acqua e facciamo riempire la vasca. Una volta raggiunto il livello desiderato andiamo a chiudere. Dopodiché passiamo all'accensione. Ruotiamo la manopolina su questo disegno della scintilla, lo premiamo e diamo l'avvio con il piezzo elettrico. Dobbiamo mantenere premuta la manopola qualche secondo in modo che si stabilizzi la fiamma, poi possiamo lasciare. Girando aumentiamo l'intensità della fiamma oppure la riportiamo a fiamma pilota. Per spegnere la macchina dobbiamo ritornare sul disegno del pallino. Poi una volta utilizzata la macchina per andare a svuotare la vasca abbiamo qui una manopola e lo scarico ovviamente andrà a terra. Adesso la macchina verrà pulita, verranno inseriti i cestelli, sanificate e spedite al cliente. Grazie della visione.